I campionati italiani master di cross consegnano alla Puglia una pioggia di medaglie sia nelle competizioni individuali che in quelle di squadra. La massima rassegna nazionale di Corsa Campestre, organizzata dalla Dynamic Fitness Club di Palo del Colle, in collaborazione con il comitato regionale della FIDAL, ha visto gli atleti pugliesi conquistare ben 21 medaglie. Un bottino di 6 ori, 8 argenti e 7 bronzi divisi tra competizioni maschili e femminili. Nella classifica a squadre, la Puglia ha piazzato ben 4 società nella top 10, con la stessa Dynamic Fitness Club vicina a vissare il successo dell'ultima edizione, quella disputata nel 2019 prima dello stop per la pandemia. C'è sicuramente qualche rammarico visto il distacco minimo dalla prima in classifica, ma la compagine guidata da Vincenzo 32 può ritenersi comunque soddisfatta. A chiudere il podio, la Downian Running, seguita dall'Atletica Pro Canosa Ottava e la Montedoro Noci Nona, a portare a casa le medaglie d'oro. Invece Viola Giustino, dell'amatori Atletica Acquaviva, Rosa Lucchena e Palmira Saracino. Mentre nel maschile affreggiarsi del metallo più prezioso, ci hanno pensato Domenico Caporale, Leonardo Serena e Stefano Labbate. A fare da testimonial dell'evento, intanto c'è stato il campione olimpionico Massimo Stano, tra gli ospiti del lungo weekend dedicato alla rassegna nazionale. Inoltre hanno trovato spazio Ivano Brugnetti in medaglia d'oro nel tacco e punta ad Atene 2004 e Landrisi e Francesco Fortunato, anche lui tra i protagonisti di Tokyo 2020.